Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Allora, oggi sono qui con un nuovo video Come potete vedere qua c'è il piccolo Eros che ha vestito natalizio con questo cappellino bellissimo E oggi è un video, questo è un video particolare perché decoreremo assieme la Narsery Quindi adesso vi faccio vedere le varie decorazioni che ho preso Allora, le decorazioni sono queste Adesso ve le mostro meglio Ci sono queste perline che sono su di un filo e che servono da appendere C'è questa ghirlanda E poi c'è questo adesivo che si mette sul vetro Adesso mettiamo questo sul vetro Ecco qua L'ho messo, vedete? Adesso ve lo mostro meglio Eccolo Che carino Ora sistemeremo questa ghirlanda sulla porta Ok ragazzi, guardate, l'ho attaccata Ok, ho acceso la luce così vedete meglio Comunque guardate È bellissima sulla mia porta Adesso vedrò dove attaccare questo nastro di perline Ok ragazzi, ho posizionato le perline Adesso ve le mostro Le posizionate qua, vedete? Sotto questa mensolina carina Bene ragazzi, ho finito di mettere le decorazioni Spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Qua c'è la piccola Chloe È un amore Che prima non ve l'avevo fatta vedere Quindi adesso la vedete E poi Niente, quindi Questo video è stato molto corto Ma presto usciranno altri video Quindi niente Vi ricordo che è in corso un giveaway Quindi andate subito a iscrivervi Perché finirà il 23 Guardate Per le regole e più informazioni Andate a guardare il video Che ho fatto apposta per quel giveaway Quindi niente ragazzi Ciao Al prossimo video